Amici, Raimondo Todaro verso l'addio, sta perdendo la pazienza. Raimondo Todaro sarebbe vicino all'addio d'amici di Maria De Filippi. Il coach di latino americano non dovrebbe essere riconfermato per la prossima edizione del Talent. Sembra che dietro alla mancata riconferma ci sia lo zampino di Maria De Filippi in persona, con la quale i rapporti si sarebbero fatti tesi in queste ultime settimane. Anche Arisa non dovrebbe essere riconfermata, ma per tutta altre ragioni. Raimondo Todaro, da un paio d'anni, detiene la cattedra di latino americano in quegli amici. Quest'anno, il prof ha apparso abbastanza sotto tono rispetto all'edizione precedente. In più, ci sono stati scontri molti accesi con la sua collega Alessandra Celentano. Discussioni che spesso sono degenerate, soprattutto durante la fase del pomeridiano. C'è poi una pesante litigata avvenuta in una recente registrazione del serale, riportata dalle anticipazioni ma mai andata in onda su Canale 5. Ebbene, pare che quest'ultimo scontro, abbia infastidito parecchio Maria De Filippi che da qualche settimana a questa parte, non sembra più avere il feeling di prima con Raimondo. Insomma, i rapporti tra la padrona di casa e il prof di latino americano sembrano essersi raffreddati. Ecco il motivo per il quale, pare quasi certo l'addio di Raimondo ad amici al termine di questa edizione. A riportare tale indiscrezione è il settimanale Nuovo TV, secondo cui Maria De Filippi sarebbe pronta a dare il benservito a Tudaro. La cattedra del marito di Francesca Tocca è decisamente traballante. A tal proposito, sul settimanale si legge, i rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza. Come ha accennato, tutto sarebbe precipitato qualche settimana fa. Durante la discussione mai andata in onda in TV, i telespettatori si stanno domandando ancora oggi il motivo per il quale l'intera scena sia stata tagliata. Probabilmente il motivo è da ricondursi alle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi a tutti i programmi Mediaset. Più sobrietà e niente toni sopra le righe, niente urla o insulti. Raimondo Todaro non dovrebbe essere l'unico prof a dire addio ad amici al termine di questa edizione. Voci sempre più insistenti infatti, parlano di un addio anche di Arisa. La prof di canto. Vorrebbe ricominciare a dedicarsi alla sua carriera di cantante. Questo anche alla luce della mancata chiamata di Amadeus nell'ultimo festival di Sanremo. Quindi, se tutte queste indiscrezioni corrispondesse a realtà, dal prossimo settembre, il pubblico dovrà fare a meno detto da Risa. Quasi certa la riconferma degli altri coach. A partire dalla veterana Alessandra Celentano. Anche Lorella Cuccarini non sembra essere in discussione. Anche alla luce degli ottimi rapporti con Maria De Filippi.